Ciao ragazzi, in questo video analizziamo il moto di una carica in un campo elettrico. In particolare consideriamo un corpo di carica Q e massa M che entra con velocità V in una regione di spazio in cui è presente un campo elettrico E. Consideriamo la carica positiva e le direzioni della velocità d'ingresso e del campo elettrico ortogonali tra loro. Determiniamo allora la traiettoria del moto che il corpo segue nel campo elettrico. Per farlo prima di tutto dobbiamo scegliere un sistema di riferimento opportuno e quindi andiamo a guardare il campo elettrico da una posizione frontale e scegliamo un sistema di coordinate X e Y posizionato come vedete in figura. L'asse delle X segue la direzione della velocità in ingresso del corpo ed è ortogonale al campo elettrico. L'asse Y invece ha la stessa direzione del campo elettrico. A questo punto andiamo ad analizzare il moto e consideriamo la direzione che possiamo chiamare orizzontale nel senso che segue l'asse delle X. Abbiamo detto che quando il corpo entra nel campo elettrico il suo vettore velocità ha questa direzione orizzontale. Ne segue che il corpo segue un moto rettilineo uniforme lungo la direzione X. Possiamo perciò descriverlo come X in funzione di T uguale a V per T. Lungo la direzione Y, che possiamo chiamare in questo caso verticale, osserviamo che sul corpo agisce la forza di Coulomb, orientata nello stesso verso del campo elettrico. Infatti la carica Q è considerata positiva. Il modulo della forza di Coulomb è allora F uguale a Q per E. Ricordando la seconda legge della dinamica, F uguale MA, abbiamo perciò che massa per accelerazione deve essere uguale a carica per campo elettrico, da cui ritroviamo che l'accelerazione lungo la direzione verticale Y è data da A uguale a Q per E fratto M. A questo punto possiamo andare a descrivere il moto del corpo lungo la direzione Y, che è un moto uniformemente accelerato. Vale quindi la legge Y di T uguale a un mezzo A per T quadro. Infatti osservate che non c'è velocità iniziale lungo la direzione Y. Sostituiamo A uguale a Q per E fratto M ritrovando Y di T uguale a un mezzo Q per E fratto M per T quadro. Ma a questo punto andiamo a isolare la variabile T in questa equazione del moto rettilineo uniforme lungo la direzione X. Ritroviamo che T deve essere uguale a X fratto V, in cui omettiamo la dipendenza dal tempo per una questione di semplicità di notazione. Sostituiamo e otteniamo che Y è uguale a un mezzo Q per E fratto M per X quadro fratto V quadro. Concludiamo perciò che il corpo segue una traiettoria parabolica di equazione Y uguale a Q per E fratto 2M V quadro per X quadro. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi abbia aiutato a capire come studiare il moto di una carica all'interno di un campo elettrico. Continuate a seguire i video di questo canale, mettete il mi piace e iscrivetevi. A presto!